Un saluto da Devi, oggi vi mostro una destroyer giapponese di livello 7 ovvero la Hatsuharu Diciamo subito qualche specifica tecnica di questa nave che raggiungerà una velocità massima di 37 nodi Sarà spottata a una distanza di 6.7 km da qualsiasi nave e da 3.5 km da qualsiasi aereo nemico La velocità dei suoi torpedo è di 62 nodi che raggiungeranno un range massimo di 10 km Velocità di ricarica di torpedo 82 secondi Siamo capiati un matchmaking noto subito così a prima vista direi abbastanza interessante Infatti non noto grosse differenze anche se noi abbiamo rinagato che sicuramente possono dire la loro in questa partita Allora noi cerchiamo di andare a catturare il punto di alfa in quanto si trova come vedete in mezzo a di iceberg Ottima copertura per la nostra piccola ma agile nave Allora c'è già un po' di movimento, Mogami e Fubuki vanno in quella direzione quindi noi andiamo anche noi da quella parte La montana non lo so ragazzi come la nave ma gli americani proprio non mi convincono in questo gioco Non mi convincono Trovo più interessanti i giapponesi Le torrette come al solito fanno la loro parte con le HE Ho messo anche qualche bandiera giusto come supporto ulteriore Allora Quella Mogami dovrebbe sganciare i suoi siduri La Mogami se non ricordo male ne ha davvero tanti e può scappare Perché fondamentalmente ragazzi gli incrociatori sono da supporto alle navi pesanti Non mi stancherò mai di dirlo Mentre le Destroider possono combattere contro tutti perché hanno la velocità e la grandezza ideale Allora lì c'è una Mioco Potremmo anche provare ad avvicinarci sfruttando quell'iceberg e poi sganciare i nostri famosissimi confetti o pesciolini Come volete Forse confetti è più bello però Ma confetti per le bombe solitamente Vabbè dai Lì c'è una Destroider La ignoriamo brutalmente Ce ne freghiamo Facciamo finta che non esiste Ok la Mioco in avvicinamento Ok Dovrebbe essere dietro quest'iceberg Vediamo Allora No un po' più in là No siamo questi Eccola qui la Mioco C'è qualcuno che si infila qui Ok dai Vediamo I buchi livello 9 Ok esatto livello 9 Quella Mioco È molto fastidiosa Molto fastidiosa Perfetto Perfetto Allora Vediamo Nagato Malletta Nagato Molto pericolosa Abbiamo attivo anche il Sesto Senso Quindi se saremo spottati saremo avvertiti Davvero molto utile Allora Vediamo Eccola La vedo Ovviamente non sparo Altrimenti mi spotta Forse potremmo anche cercare di chiudere quelli buchi E quella Quelle navi lì Perché Allora Lui cosa fa Vediamo Devo capire se manovra Oppure Ok lui sta manovrando Però si allontana Forse dovremmo prima ripulire questa zona Fra gli iceberg Eh si perché lì siamo praticamente in mare aperto Tra virgolette In mare aperto Però Non abbiamo Riparo Mogami e Fubuki Già hanno perso quasi tutti i loro HP Non capisco cosa abbiano fatto Però Dobbiamo accettare Vediamo Abbiamo Abbiamo catturato anche P Dovrebbero essere da queste parti In teoria Quindi Mettiamo Già i situri pronti Dietro quest'iceberg Sicuramente L'Agnoco Ok Quello è l'Hat Suaru Come la nostra Eccola Di Buki No pensavo che c'era qualcuno Qui dietro Come mai Vabbè Si sarà teletrasportato Elementare Dai Ah no Eccola Eccola E dicevo che c'era Mannaggia Eccola Mannaggia Dovevo andare Dall'altra parte Dovevo andare Perché adesso Non ho spazio per Proviamo così Anche se ci scontro Adesso mi scontro Lo so però Ce ne freghiamo Perché se la becco Quella New Orleans Ci saluta E diciamo che L'ho beccata E diciamo che Che l'ho affondata Brutalmente Ragazzi Bisogna stare attenti Bisogna stare attenti A questo gioco Perché come niente Avete visto Ho previsto La sua mossa E poi L'ho affondata Allora Quella Mioco Adesso è in grande difficoltà Ha pochi HP E quindi noi Ne approfittiamo La Destroyer E' anche Approfittatore Come nave Una nave Approfittatore Approfittatrice Verrete voi Insomma come dire Attosuaro Approfittatore Nave Approfittatrice Ok Un po' di grammatica Conveglia Va bene Dopo questa Spiacevole parentesi Cerchiamo di Allora Le navi sono tutte lì Ci sono due Destroyer Nemiche Va bene Però noi Fondamentalmente Stiamo per vincere Incredibile Con il minimo Sforzo Davvero Andiamo Dove c'è un po' più Di movimento Da perché qui Nel punto di Alpha C'è Una nave Sola Quindi Poca roba Vedete quanti Danni siamo riusciti A creare L'abbiamo Letteralmente Massacrata Con la New Orleans Un crociatore Americano Di livello 8 Ormai E storia Non ditemi Che finisce qui La partita Perché dura davvero poco Va bene Sempre come dici tu Eccola La nostra prossima Vittima L'ha nagato Però siamo lontani Speriamo che Qualcuno Della squadra Nostra Muore Così perdiamo punti E la partita Si Dura un po' di più Insomma Allora Noi ci avviciniamo Davvero Fino all'ultimo E poi sganciamo Tanto ormai Ecco no La partita Ormai È pinta Perché Una squadra Davvero eccezionale Poi la cosa bella È che lui Ha i cannoni Puntati Da tutt'altra parte Quindi anche a volendo Non ci può sparare Se non con L'artiglieria La North Carolina La vedo abbastanza In difficoltà Si è quasi fermata Insomma Delle prede Molto facili No Adesso lui Sta manovrando Va bene Lui ragazzi Non ci nota Io li sparo I siluri Perché comunque Andrebbero a segno Dai Eh però non ci arrivano Mannaggia L'avremmo affondato Molto facilmente Perché lui guarda Da tutta l'altra parte No attenzione Perché Perfetto Hanno ucciso Il nostro Alleato Quindi noi Ne approfittiamo Brutalmente E iniziamo a sparare Anche noi Qualche colpo di Ci siamo stati spottati Semplicemente adesso Torniamo Invisibili Ok Prendiamo un po' Di colpi Adesso Speriamo che prende fuoco No ancora no Niente Mannaggia ragazzi Sul più bello Dai Sul più bello Comunque Vediamo un po' Quei rapporti Dettagliati Abbiamo messo a segno 5 hit Normali 3 colpi D'asiduro 1 aereo Buttato giù 1 colpo critico 1 nave affondata 3 falle causate Nello scafo Avversario Allora Team score Poca roba Fondamentalmente Rapporti Dettagliati Abbiamo messo a segno Come vedete Il massimo dei danni Su quella nave Ovviamente Abbiamo ricevuto Un danno Non abbiamo ricevuto Un danno E l'esperienza guadagnata E' davvero ottima Con il premium Ma anche con un account standard Vedete Che è davvero Molto buona Bene ragazzi Questa era la At Suaro Il video finisce qui Io vi invito ad iscrivervi Al mio canale Se ancora non l'avete fatto In modo tale Da non perdere Nessuno i miei aggiornamenti E noi ci vediamo Alla prossima Ciao